C'è stato coraggio e poi stare nascosti a sparare da vigliacchi è facile, può succedere ovunque e sempre, dietro un muro a sparare mentre uno passa lo so fare chiunque, anche un verme. In questo momento anche per la città di Salerno c'è grande attenzione sul fronte della sicurezza, ci sono avuti diversi episodi, soprattutto di rapine, di furti, lei più o meno che immagine dà in questo momento della città? Io distingo fra i fenomeni e sono quando si ripetono costantemente episodi, quelli di cui parlarei sono episodi su cui ci stiamo attrezzando, che i cittadini ci hanno segnalato doverosamente, è bene che manifestino il loro dissenso e stimoli il nostro lavoro e noi cerchiamo di essere più attenti e più efficienti. E le ringrazio per la collaborazione, perché segnalarci gli episodi ci aiuta a fare il nostro lavoro. E loro ci riconoscono il nostro impegno anche con gli errori, con le sbavature che ci possono essere e questo è motivo di orgoglio e le ringrazio. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia che ci ha accordato. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia. Grazie a tutti i cittadini. Grazie a tutti.